ciao youtube francesco rizzo scusate francesco rizzo qui con voi oggi volevo parlarvi di due tre cose così un po un po random in primo luogo volevo parlarvi dei famosi copri bocchino che uso io in silicone che sono fatti sia per non rovinare il bocchino sia per la comodità tenerla in bocca ovviamente oggi su questa pipa non è applicato perché è una pipa molto pesante quindi non è comunque fumabile in bocca cioè tenendola in bocca e quindi non l'ho applicato questa è un'altra pipa di mia creazione una pipa che ho fatto da una placca guardate che bella fiammatura da una placca di radica che mi ha mandato un altro grossissimo pipe maker italiano che è Mastro Gandolfo che saluto e che ammiro tantissimo tra le sue pipe che fumano straordinariamente lui comunque un professionista a differenza mia che sono ancora un amatore allora detto questo cominciamo a parlare di questi tappini in silicone parla parla si spinge sto fumando dell'ottimo frogmorton on the bayou all'interno è uno dei tabacchi che vi ho presentato nell'altro video veramente buonissimo è un anglico mixture detto questo lo appoggerò se non riesco a fare niente allora questi li faccio io sono tappini che potete trovare in qualsiasi negozio di sigarette elettroniche io li prendo lì dopo di che andate a fare semplicemente con le forbici premendo tagliate qui posso anche fare in diretta ecco ecco qui abbiamo fatto il nostro buco poi prendiamo la nostra pipa anche questa è una pipa che ho fatto io in vivo guardate che belle che fortuna a trovare queste venature comunque prendiamo la nostra pipa e lo infiliamo qui sopra ovviamente questo fa schifo lo devo anche cambiare bagniamo un pochettino così agevoliamo il fatto di poterlo infilare nel bocchino ecco fatto con questo qui andiamo a avere il bocchino protetto e una fumata decisamente decisamente più comoda se siamo persone che tengono la pipa in bocca perché il metacrilato o le banite ma il metacrilato ancora più le banite io su a mio avviso insomma lo trovo un po' duro da tenere in bocca detto questa è questa è la prima cosa questi sono quelli che faccio io un'altra soluzione che ho trovato anche se a me non piace molto è in farmacia andare a prendere un qualsiasi laccio emostatico e tagliarlo in vari pezzettini della lunghezza che vogliamo rispetto al bocchino rispetto a quanto ci ci piace a noi e andiamo sempre a bagnarlo e applicarlo sul bocchino però ho trovato che il laccio emostatico è non so mi si attacca le labbra forse ho trovato un laccio emostatico sfortunato semplicemente credo che ci siano più materiali per fare lacci emostatici magari ho trovato un materiale che non era così buono per questo uso che peraltro non è il suo comunque con questi in silicone io mi trovo benissimo altrettanto validi questi sono fatti apposta ma in italia ripeto l'ho già detto anche nel primo video non si trovano ma sono questi softy bits che si trovano ovviamente su internet questi sono straordinari sono fatti apposta anche se quelli che faccio io in silicone non temono confronti però questi sono proprio fatti apposta e li potete trovare un po' ovunque io li ho presi qua questo è uno dei siti più importanti per quanto riguarda il fumo della pipa ovviamente è un sito americano ma spedisce in tutta Europa come ho già spiegato potete farvi mandare i tabacchi da qualche vostro amico o quant'altro e li hanno anche queste cose qui che sono molto molto comode un altro sito così vi do un po' di visto che comunque uno si informa studia almeno magari posso aiutare anche qualcuno di voi che mi avete scritto anche che sarebbe bello no poter sapere confrontarsi sui tabacchi prima di poterlo prendere perché magari poi non ci piace e sono assolutamente d'accordo con voi allora se vi ha stuzzicato qualche tabacco che vi ho presentato nell'altra nell'altro video o nel video ancora precedente o se semplicemente facendo le vostre ricerche vedete i tabacchi che vi possono interessare ma non avete nessuna idea di che cosa ci possa essere dentro se vi possono piacere non fate altro che andare su tabacco reviews questo qui è un sito incredibile qua potete trovare tutto quello che vi serve rispetto a che tipo di tabacchi ci sono ci sono recensioni anche se sconsiglio di leggere recensioni di altri utenti come voi però insomma le recensioni sono sempre molto indicative nel senso leggetele ma non fate proprio casa quello che scrivono perché ognuno ha un palato ognuno poi pensa quello che crede rispetto a un tabacco però insomma almeno se ci sono 20-30 recensioni sono tutte recensioni positive sicuramente non sarà un tabacco poi così scadente e se è un tabacco che può fare al nostro caso sicuramente ne varrà la pena sicuramente ne varrà la pena provarlo ecco io questo sito l'ho utilizzato moltissimo per scegliere i tabacchi da farmi spedire dall'America o i tabacchi che sono andato a prendermi sia a Chiasso che a Lugano ecco poi volevo farvi vedere il mio nuovissimo anche se è già stato ovviamente usato pigino straordinario questo è un pigino vedete che ha sia i buchi che quindi quando andiamo a usarlo senza premere troppo sempre quando andiamo a usarlo mi fa respirare la fumata e quindi non tappa la pipa ed è una diversa cosa sia non so se si vede ma è un po' concavo non è piatto come quest'altro ed è straordinario perché cosa succede noi quando andiamo a pigiare il nostro tabacco è fondamentale pigiare sempre lateralmente e mai in centro perché il tabacco tende ad alzarsi e quindi bisogna pigiare intorno e questo è fatto praticamente apposta non serve che andiamo a pigiare intorno se io pigiono ovviamente già di per sé tende a schiacciare di più il tabacco attorno e non quello in centro ecco lo trovo molto elegante mi piace molto poi volevo parlarvi un attimo di come caricare le pipe allora come caricare una pipa ci sono infiniti video se guardate che vi insegnano come caricare una pipa io come al solito faccio quello un po' contro tendenza fregatevene nel senso che ci sono veramente tanti modi c'è il free step il two step il free step bisogna prendere un pizzico buttarlo dentro premerlo pochettino prendere un secondo pizzico di tabacco buttarlo dentro premere un pochettino di più poi prendere il terzo e premere ancora di più il secondo il two step prendere molto tabacco metterlo dentro senza premerlo battere così sulla pipa fin quando non baggio tutto prendere un altro pizzico di tabacco sempre abbastanza corposo e buttarlo sopra e spingerlo tutto dentro lentamente sapete che c'è uno sono linee generali che non c'entrano assolutamente niente perché la cosa principale è vedere che tipo di taglio ha il tabacco perché possiamo avere tabacchi tagliati molto sottili dei flake addirittura che quando andiamo a sbriciolare per caricarli diventano comunque tabacco taglio grosso quindi intanto vedere che tipo di taglio ha il nostro tabacco e in base a quello si possono fare si può spingere più o meno il tabacco perché per esempio se il taglio è molto grosso possiamo non possiamo anche preoccuparci di meno e si può spingere un po di più perché la pipa avrà modo comunque di respirare e due cosa molto molto importante quanto il nostro tabacco è umido se è un tabacco molto umido a parte che appena apriamo una scatolina di tabacco consiglio sempre per la prima fumata di tirare fuori la carica per una pipa e lasciarla respirare almeno mezz'oretta perché di solito sono sempre molto più umidi del dovuto detto questo controllare se il tabacco è molto umido o se è umido giusto o se è secco e in base alla grado di umidità comunque si farà un altro tipo di carica se è molto molto umido e andiamo a premere molto il nostro tabacco faremo un disastro perché la pipa sarà soffocata e si continuerà a spegnere e dovremo tirare come dei forsennati e quindi verrà fuori che la pipa si scalda la lingua ci si brucia il tabacco non rende l'aroma che dovrebbe rendere e la fumata quindi farà abbastanza schifo quindi il taglio del tabacco e l'umidità detto questo dicono in america in inglese fill your pipe cioè sentite quello che che la vostra pipa e il vostro tabacco vi chiedono se no se non siete in grado di sentire queste cose probabilmente la pipa non è non è il vostro fumo fumatemi una sigaretta non lo so nel senso comunque la pipa credo che sia molto molto di pancia che sia una fumata molto molto intima e che appunto abbia il suo bello sia anche che abbia una ritualità quindi insomma cercate semplicemente di non premerlo troppo mai il pigino durante la fumata usarlo sempre abbastanza delicatamente e detto questo per caricare le cose basiche sono guardare il taglio del tabacco e guardare l'umidità a quel punto sicuramente il primo tabacco che andremo a buttare non lo premeremo tanto e poi mettetelo fin quando riempite la vostra pipa o fin quando o quanto vi va di fumare quindi si può fare anche una mezza carica voglio dire questo è quello che io ho visto tra tutti i milioni di video che ho guardato per imparare a caricare una pipa ci sono veramente un sacco di video là fuori potete guardarli anche voi poi alla fine vi renderete conto che in realtà quando fate un caricaggio corretto che usate un metodo piuttosto che un altro o nessun metodo in realtà mandate solo un po' come dire a sentimento avrete le migliori fumate con questo vi saluto se avete altre richieste sono a vostra disposizione la prossima volta non so cosa mi inventerò probabilmente parlerò un altro po' di tabacchi e magari di come fare un minimo di manutenzione delle pipe intanto vi saluto e vi auguro un buon fine settimana ciao a tutti ciao a tutti